Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e se siete pronti noi vi porteremo attraverso le grandissime occasioni di DR in compagnia di Grandolfo Auto nella sede di Pantigliate. Ciao Sebastiano. Ciao Rosi, benvenuta tra di noi e con tutto il tuo staff sempre ligi e attenti all'operato che da anni ci aiutate in questo splendido lavoro. Grazie, naturalmente noi portiamo a casa loro tutte le vostre occasioni. Permettimi, dopo ti do la parola di salutare solo Massimo. Ciao a tutti, buona serata e buongiorno per chi ci vede di mattina. Perfetto e naturalmente Pietro. Ciao Rosi, ciao a tutti. Adesso a te la parola Sebastiano. Ti ringrazio Rosi. Vorrei ringraziare a tutti coloro che hanno posto in noi la fiducia, è molto importante, il vostro feedback per noi è la nostra esistenza. Ecco che devo ringraziare con cuore a tutti voi. Grazie poi allo staff che in un momento sempre così attivo e attento al prodotto e alla clientela ha sempre dato il massimo. Ma c'è sempre da fare. Voi chiedete e noi cercheremo di essere al vostro fianco. Passo la parola a mio figlio Massimo e al nostro collaboratore Pietro che vi daranno una informazione anche delle nuove dinamicità del mondo DR. E allora partiamo dalla DR3. Ormai come tutti sappiamo, ormai sono mesi e anni che continuiamo a dirlo, DR è un marchio che quindi promuove autovetture full optional di serie. Quando parliamo dunque del full optional non si parla del servosterzo dell'aria condizionata, vero Pietro? No, c'è anche la retromarcia Max. No, quindi dunque parliamo di tetto in cristallo a doppia apertura, la videocamera per la retromarcia, il monitor da 8 pollici all'interno e molto altro. Ma in particolare sappiamo che le DR sono autovetture, come qualcuno dice, eco-friendly, no? Quindi in questo caso c'è la versione benzina 15.000 euro, la versione benzina GPL 16.000 euro e l'ultima presentata proprio qualche settimana fa al Salone di Ginevra, la versione EV, l'elettrica. Dunque con un'autonomia di 400 chilometri, la DR3 che vuole addirittura, anzi va a posizionarsi col prezzo più competitivo del mercato a 37.500 euro e vi aspettiamo in quanto gli ordini sono già aperti. Ma in particolare, Pietro, la DR3 dunque paga l'ecotassa? Assolutamente no. Benissimo. La DR3, anche lei qua presso le nostre filiali, è possibile avere 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato? Chiaro, certo. Benissimo Pietro. E spiegami, quali sono i vantaggi del GPL sulla DR3? Quanto costa foro in piedi e quanti chilometri percorro? Penso sia palese che fare 500 chilometri con 28 euro, possiamo dire 30, è ormai il sogno di ognuno di noi. Andiamo a risparmiare davvero un sacco di quattrini nelle tasche. È stato anche molto 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 carino, carino perché in effetti devo ammettere che fa più chilometri. L'ho avuto più di qualche mese in mano e devo ammettere che fa di più. Ma rimaniamo sui 500 che mi pare già una quota interessantissima. Ma in questo caso, visto che c'è questo gap, sulla DR3 vi pago io 3000 chilometri a gratis di carburante a GPL. Questa è la promozione sulla DR3. Avanti ragazzi. Tanto perché non erano già interessanti così. Ma noi cerchiamo di offrare sempre qualcosa in più. Dai, va bene. Bene. Passiamo dunque alla DR4. DR4 che, Pietro, e lascio a te a questo punto il microfono, dai. Beh, la DR4 è sempre più interessante perché abbiamo davvero davvero tanti tanti optional. Abbiamo i fari di urina led davanti e dietro, di serie, sistema di cornering con i fendi nebbia. Pensate ai sensori di parcheggio all'anteriore o anche le quattro videocamere di cui una è proprio qui davanti. Abbiamo anche qui gli 8 pollici di monitor, touchscreen capacitivo e non solo, il tetto apribile, ma questi altri accessori in realtà li lascerei vedere a voi sulla prova di quattro ruote che potete tranquillamente trovare su YouTube. E la definisce premium tidesca. Vi anticipo qualcosa, ma il resto potete vederlo da voi. Max, che altro possiamo dire della DR4? Quanto ci viene a costare? L'autovettura costa 17 mila euro benzina, 18 mila euro benzina GPL, 19 mila e cinquecento euro per tutti gli amici metanisti e... 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 e qui ci siamo... Lo sapevo. Ebbene sì, perché anche qua forniamo 4 mila chilometri a GPL gratuito dalla Grandolfo Auto. E allora, se non è questa la felicità, ditele voi. Papà, ma l'eco-tassa sulla DR4 si paga? Ragazzi, ragazzi... Guarda, Grandolfo Auto, si pagasi o no? Qui non si paga l'eco-tassa in tutte le nostre DR4. E lui paga, e lui paga. E io continuo a pagare, eh. O fra il caffè, o fra i chilometri, io continuo a pagare. Bene, 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 perché è arrivato il momento di parlare della regina, la nostra DR6. Papà, qua è il tuo momento. Eh, che dire. È il tuo momento perché io, giustamente essendo il figlio, so molto bene che tu ti stai immatricolando finalmente una DR6. Beh, in realtà me la sono già immatricolata, ma tu me la hai portata via perché ti piace molto. Con le ragazze, in discoteca, io so un po' tutto, ma faccio finta di nulla. Però la DR6 mi ha colpito il cuore. Perché? Perché abbiamo veramente una bella ammiraglia, un bel SUV di ultima generazione, full optional, ma veramente full optional. La parola full optional, uno pensa, sì, poi magari ha, no, noi è tutto di serie. Anche il metallizzato, per chi la vuole metallizzata, è di serie. Esatto. Abbiamo veramente tutto, tutto e di più. Sull'autovettura è una 1.5 di cilindrata con 150 cavalli di potenza, turbo, quindi ha anche i muscoli. Quindi, non solo, ma con un pieno di gas, signori, ecco perché dico la felicità, perché basta buttare via i soldi dalla marmitta, con sole 37, 38, 39 euro, facciamo circa 700 chilometri. Questa è la verità. Confermo. Ecco perché la DR6 è lo scippacuori, come dicono giù a Napoli. Cosa ne pensate, ragazzi? Allora, intanto che anche qua continuerai a sottolineare che l'ecotassa, papà, non la paga. Qua da Grandolfo Auto che si paga. Non la paga l'ecotassa, anche sulla DR6 non paga l'ecotassa. Oh, ho scoperto che l'altro giorno, caspita, anche il bizona, il clima bizona. Il clima bizona. Allora, ragazzi, ma ci rendiamo conto, ma a sole 20.000 euro. Esatto. E con l'impianta gas, 1.000 euro in più, 21.000 euro. Ma come possiamo pensare che le autovetture hanno un costo così basso? Certo, perché il signor Massimo Dirisio, pluricampione del mondo, che chapeau come persona, ha creato questi modelli dove prezzo, qualità, non fa buttare via i soldi che voi tutti i giorni lavorate per portare a casa il vostro stipendio. Qui abbiamo il risparmio, ecologia, qualità, perché non paga l'ecotassa, ma possiamo andare in Milano dove uno parla di euro, euro 4, euro 3, basta, basta, con il gas euro sempre. Quindi possiamo andare dove vogliamo, senza vincoli, perché può essere parcheggiata anche sotto al primo livello del manto stradale. Quindi, come si fa? Questa è la felicità. È giusto sottolineare che anche per gli amici metanisti la DR6 a 22.500 euro sarà a vostra disposizione. Ma attenzione, Grandolfo Auto, come ormai in tutte le puntate andiamo a sottolineare, andiamo quindi a impreziosire il vostro acquisto con l'opportunità di estendere la garanzia per 7 anni a chilometraggio illimitato. Papà, il chilometraggio illimitato, dai, io rimango sempre basito perché non esiste un costruttore che dà in origine, come la garanzia ufficiale, la garanzia a chilometraggio illimitato. La dice lungo sulla qualità dei materiali, dai. Perfetto. Ma la promozione anche su questa che si chiama DR6? No, veramente, Sebastiano. E dai, non possiamo dirgli no. Questa qua sarà 6.000. Ebbene sì, anche su lei 6.000 chilometri a gratis pagati da me. Oggi regaliamo. No? Mia. 6.000 chilometri a gratis a GPL. E passiamo alla piccola DR0, papà. DR0 che proprio qua alle nostre spalle non si sta nascondendo, ma le sorelline maggiori la proteggono. No. Ecco che, pensate, una city car di soli 3,61 metri ha un prezzo grande tanto quanto la sua lunghezza. 8.500 euro, full optional di serie. Pietro, esiste benzina? Esiste benzina GPL? Esiste benzina e metano? Domanda, paga l'ecotassa? La DR0 ovviamente non paga l'ecotassa. Quindi vi aspettiamo anche per la DR0, qua in concessionaria, papà. Perché? E perché una DR0, che è piccolina, è la nostra più amata, non può essere zero. E anche qui diamo 2.000 chilometri in omaggio a GPL, per chi l'acquista a GPL. Perfetto, bello, bello, bello. E come non parlare della DR5, è stata di fatto la nostra reginetta e anche lei, come tutto il resto della gamma DR, è un'autovettura quindi full optional di serie. Ma di fatto ha quindi il tetto in cristallo a doppia apertura, ha i fari con luci diurne a LED, che oltre a essere a LED sono anche interessanti perché hanno un disegno LED design. Quindi, ecco che, sensore di parcheggio, videocamera posteriore per la retromarcia, i cerchi in lega da 17 pollici, il monitor da 8 pollici, touchscreen, core, sistema, mirror link, eccetera, 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 eccetera. Tutto di serie, anche lei benzina al prezzo di 14.900 euro, benzina e GPL al prezzo di 15.900 euro, 17.900 euro per la versione benzina e metano. Vi aspettiamo e venite a conoscere presto la Grandolfo Auto, la DR Evo 5 e provarla su strada perché anche lei sarà possibile impreziosire la vostra autovettura con 7 anni di garanzia. Ma, scusa, paga l'ecotassa? Non si paga, quindi vi aspettiamo da Grandolfo Auto. Quindi, signori, io vi ringrazio vivamente di cuore per tutto quello che avete fatto per noi, che con noi continuiamo a reinvestire, a creare lavoro per voi e per tutta l'Italia. Forza Italia, andiamo avanti, produciamo lavoro, produciamo energia. Grazie ancora di cuore, a presto. Vi aspettiamo! Grazie! 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 Grazie a tutti.